Musica Buongiorno e benvenuti al TG2000, all'edizione di Mezzogiorno. Vediamo subito i nostri titoli. Immigrazione e polemiche in Europa, Renzi, ai paesi dell'est, dice nessun fondo senza il rispetto degli accordi sull'accoglienza. Decreto salva banche, tutto pronto, ma non arriva la firma da parte del governo. Crescono le sofferenze di istituti e risparmiatori. Donald Trump perde consensi e attacca il Papa, pedina dei messicani. Francesco allora ricorda che alza muri, non è cristiano. Allora dal Consiglio europeo a Bruxelles, sul tema migranti, Matteo Renzi attacca i paesi dell'est Europa e l'Ungheria risponde. E' un ricatto politico. Rimane inoltre lo scontro tra Vienna e l'Unione europea, sui tetti d'accoglienza. E Renzi però nel frattempo tiene d'occhio anche i dossier interni da cui arriveranno tensioni la prossima settimana. Augusto Cantelmi Basta fondi a chi si rifiuta di aiutare i migranti. La proposta del Premier Renzi scuote il Consiglio europeo e scatena la reazione dei paesi dell'est per l'Ungheria, quello dell'Italia, un vero e proprio ricatto politico. Ma è scontro anche tra Bruxelles e Vienna dopo la decisione dell'Austria di fissare il tetto di accoglienza a 80 migranti al giorno. Allora io credo che la vera risposta sia quella di chi oggi dice sia l'Europa a gestire non soltanto la riallocazione in tutti i paesi membri dei richiedenti asilo, ma sia anche l'Europa a gestire i rimpatri. Ma se sull'immigrazione qualche timido passo in avanti si è compiuto sull'altro tema caldo del summit, la cosiddetta Brexit, ossia l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione il passo invece è stato all'indietro, confida lo stesso Renzi, costretto comunque a mantenere lo sguardo anche sulle vicende interne, soprattutto legate all'economia dopo il duro giudizio della Corte dei Conti sui tagli alla spesa considerati insufficienti e le previsioni dell'Ocse che vedono al ribasso la crescita dell'Italia. E poi resta la questione banche, al centro anche del vertice europeo, sempre più divisivo in seguito all'attacco di Renzi ad alcuni istituti di credito tedeschi. Un quadro in evoluzione ma comunque precario per il governo che secondo alcune ricostruzioni dei giornali spingerebbero il Premier ad anticipare il voto previsto per il 2018, anche perché si trova a che fare con un partito, il suo sempre più diviso, come la vicenda delle unioni civili continua a dimostrare. Mercoledì prossimo il disegno di legge Cirinà torna in aula e subito sarà battaglia sugli emendamenti. Qualcosa si muove a questi emendamenti sugli emendamenti? Sto studiando, sto studiando gli emendamenti. Grazie. Drammatico sbarco questa mattina nell'Agrigentino. Una trentina di persone, tutte provenienti dal Nord Africa, da Maghreb, Libia e Tunisia, sono arrivate sulla spiaggia di Torre Salsa a Siculiana, provincia d'Agrigento. I migranti sono giunti su una barca. Alcuni di loro hanno anche raccontato che ci sarebbero dei morti annegati. Un elicottero della Guardia Costiera sta perlustrando lo specchio di mare antistante a Siculiana e secondo le prime informazioni sarebbero stati individuati dei cadaveri. Voltiamo pagina e parliamo del decreto salva banche che è pronto ma non arriva il sigillo da parte del governo. Intanto altri risparmiatori rischiano di diventare vittime delle scelte di alcuni istituti. Il servizio è di Federico Plotti. Il decreto indennizi è pronto ma tutto è ancora fermo in attesa che vengano sciolti gli ultimi nodi. Nodi politici più che tecnici, ha detto ieri il presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone. L'autorità anticorruzione è dunque pronta a partire con gli arbitrati. Agli obbligazionisti delle quattro popolari, Banca Marche, Banca Etruria, Cari Ferrara e Carichieti, oggetto delle misure di salvataggio del governo, ma sui provvedimenti per attivare la procedura evidentemente serve del tempo. Dunque un testo c'è ma deve essere ancora verificato dai ministeri. Manca il sigillo politico del governo. Credo che comunque sia sostanzialmente indirittura d'arrivo, ha detto ancora Cantone. Saranno un decreto interministeriale, uno della presidenza del Consiglio, come indicato dalla legge di stabilità, a decidere i meccanismi per far partire gli arbitrati che dovrebbero distribuire agli obbligazionisti finiti sull'astrico dopo il salvataggio delle quattro banche i 100 milioni del fondo. La questione è estremamente delicata e complessa perché si tratta di stabilire con chiarezza presupposti, modi e termini per gli arbitrati e anche i requisiti dei risparmiatori che avranno diritto ai risarcimenti. Intanto arrivano cattive notizie per altri risparmiatori, soprattutto per i 117 mila azionisti della Popolare di Vicenza. Rimarranno con pochi spiccioli in mano dopo la decisione del CDA di trasformare la banca in una SPA, una manovra che farà perdere quasi il 90% del valore delle azioni sottoscritte. Dei 62 euro e mezzo prezzo di acquisto rimarrà ben poco, appena 6 euro e 30 centesimi. Nel 2015 le nascite in Italia sono state 488 mila, 15 mila in meno rispetto al 2014, toccando il minimo storico dalla nascita dello Stato italiano. Lo dice l'Istat che ha diffuso poco fa gli indici demografici, il numero dei figli medi per donne di 1,35 nel 2015 che si conferma il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità in Italia. L'età media delle donne al momento del parto è salita a 31 anni. La cronaca adesso con l'operazione della Guardia di Finanza che scopre un buco di 2,5 milioni di euro nei pagamenti del ticket da codice bianco nei pronto soccorso degli ospedali della provincia di Varese. Appena un cittadino su tre avrebbe versato il ticket previsto. Marco Bergamaschi. È un danno erariale che vale circa 2,5 milioni di euro ed è dovuto al mancato incasso di ticket ospedalieri. È quanto scoperto dalle fiamme gialle di Varese che per questo hanno segnalato alla Procura regionale presso la Corte dei Conti di Milano 38 dirigenti delle locali aziende ospedaliere. Un buco che deriva dalla mancata riscossione del ticket da codice bianco, ovvero quello previsto per casi non gravi e non urgenti per prestazioni di pronto soccorso della provincia di Varese. Ticket che in Lombardia costa 25 euro fatte salve specifiche esenzioni per età, patologie e reddito. La Guardia di Finanza ha scoperto il mancato rispetto da parte delle strutture ospedaliere e valesine delle disposizioni previste per gli stessi codici bianchi che in orario di apertura a cassa dei centri unici di prenotazione prevedono la consegna del referto della prestazione erogata al pronto soccorso solo dopo l'avvenuto pagamento del ticket. Secondo le indagini tra il 2000 e il 2014 su oltre 200.000 accessi in codice bianco al pronto soccorso di nove presidi ospedalieri solo un paziente su tre ha effettivamente pagato. Per gli inquirenti questo indebito ricorso alla cure di pronto soccorso è dettato da una chiara scelta di convenienza economica. Resta da capire se si tratti solo di furbetti oppure se ci siano anche persone in situazioni di reale disagio economico al di là dei criteri di esenzione stabiliti dalla Regione. Ancora cronaca con i carabinieri che assaltano il fortino del boss Domenico Ferrara a Villa Ricca e lo arrestano. Ferrara era famoso anche per la sua passione per il mondo della televisione nel 2013 in una perquisizione le forze dell'ordine trovarono in casa sua 300 cellulari utilizzati secondo gli inquirenti per condizionare il televoto in favore della figlia in una gara di una trasmissione televisiva della Rai. Vediamo il servizio. Decine di pattuglie 150 uomini dei carabinieri e un elicottero che guida dall'alto l'operazione sorvolando la roccaforte del clan durante il blitz notturno. A Villa Ricca comune a nord di Napoli non è stata una notte tranquilla perché alle 22 è scattata la maxi operazione dei militari che hanno letteralmente preso d'assalto il parco Nuovo Mondo centro di comando del clan. E' lì nella sua casa che i carabinieri hanno catturato il boss Domenico Ferrara con i suoi uomini di fiducia Vittorio Amato Rocco Ruocco ed altri 4 affiliati. Per loro l'accusa è di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Durante l'operazione la cosiddetta area dei giardinetti di Villa Ricca un vero e proprio bunker considerato inespugnabile fino a qualche ora fa è stata completamente circondata dai militari. Il clan Ferrara secondo gli inquirenti negli anni si è ritagliato un ruolo di spicco nel panorama criminale dell'Interland partenopeo a colpi di arma da fuoco contro le famiglie rivali e alleanze siglate con la camorra casertana. Il boss Domenico Ferrara aveva però un punto debole la sua famiglia. Già nel 2013 era infatti finito nell'occhio del ciclone con l'accusa di aver taroccato il televoto di una nota trasmissione televisiva. In casa durante il blitz vennero ritrovati più di 300 telefonini che il boss avrebbe distribuito ad amici e parenti obbligandoli a votare per la figlia che partecipava alla trasmissione Ti lascia una canzone. Con gli arresti di questa notte il clan Ferrara è stato decapitato. Donald Trump candidato alle presidenziali statunitensi che attacca Papa Francesco secondo cui una persona che pensa solo a fare muri e non ponti non è cristiana. Il riferimento è al muro che il magnate new yorkese vorrebbe costruire lungo il confine fra il Messico e gli Stati Uniti. Clara Iatosti Una persona che pensa soltanto in fare muri sia dove sia e non fare ponti non è cristiano. Come sempre Papa Francesco è chiaro e diretto sollecitato dalla stampa sul volo di ritorno del suo viaggio in Messico rinvia al mittente le accuse del miliardario americano Donald Trump il candidato alle primarie repubblicane lo aveva definito infatti un politico e addirittura una pedina del governo messicano per denigrare le sue strategie di contenimento dell'immigrazione. Ma grazie a Dio che ha detto che io sono politico perché Aristotele define la persona umana come animal politicus almeno sono persona umana e che sono una pedina ma forse non so a questo punto Trump è in calo di consensi e preoccupato di perdere ancora voti tra gli elettori cristiani decide di insultare il Papa per un leader religioso è tornato a polemizzare mettere in dubbio la fede di una persona è vergognoso ma quando il caso deflagra sui media nazionali Trump riparla e precisa stavolta accusando i media di aver gonfiato i toni ho grande rispetto per il Papa credo che stia facendo molto bene ha molta energia ha ribattuto ma credo sia stato male informato al di là della polemica restano i muri e troppo pochi i leader a voler costruire ponti adesso parliamo dello scontro fra l'FBI e la Apple perché appunto quest'ultima si è rifiutata di sbloccare il telefonino un iPhone di uno dei killer della strage di San Bernardino è a rischio la privacy dei cittadini ha detto la Apple una tesi che viene come dire appoggiata anche da altri colossi dell'informatica allora noi ci chiediamo qual è il confine appunto fra la vita privata i dati privati di un cittadino e la sicurezza Letizia Davoli Nel dibattito tra sicurezza nazionale e difesa della privacy dei cittadini scatenato dalle indagini sulla strage di San Bernardino scende in campo anche Google il colosso del web e decide di appoggiare la Apple che con una lettera ai propri clienti aveva difeso la propria scelta di tutela dei dati personali Negli Stati Uniti il governo fa naturalmente paura abbiamo avuto Assange con Wikileaks abbiamo avuto in tempi più recenti il caso di Snowden e quindi l'atteggiamento nei confronti della macchina governativa non è sicuramente dei più rilassati ma non ci troviamo di fronte ad un caso di spionaggio ci troviamo di fronte a un caso di giustizia è un magistrato che sta chiedendo quello non lo fa in nome del governo ma unicamente a tutela e salvaguardia dei cittadini in una fattispecie criminale che ha la connotazione del terrorismo internazionale in questo caso di matrice islamica La Apple in realtà non è nuova a questo tipo di scelte già una volta aveva dovuto affrontare una richiesta di un giudice e anche allora aveva detto no il sospetto però è che dietro alla tutela della privacy ci siano precise scelte aziendali che però rischiano di diventare un'arma a doppio taglio La parola marketing è risuonata già una volta a proposito di Apple in una circostanza di carattere giudiziario facciamo un salto indietro a ottobre novembre del 2014 quando James Cole vice procuratore generale dell'amministrazione della giustizia americana al termine di un incontro in cui veniva chiesto qualcosa di simile a quello che adesso è oggetto di cronaca si è naturalmente trovato di fronte un diniego e allora James Cole ha tuonato dicendo state facendo marketing per i criminali non abbiamo una bilancia per poter mettere sui due piatti valori importanti come la sicurezza collettiva e la riservatezza personale dovremmo forse trovare un punto di equilibrio cercando di avere coscienza che rinunciare anche magari a un briciolo della nostra privacy può contribuire alla creazione di una ben più massiccia sicurezza che riguarda l'intera collettività due guardie di fontiera israeliana sono state ferite questa mattina alla porta di Damasco una delle entrate della città vecchia di Gerusalemme da un palestinese che poi è stato ucciso sul posto l'attacco è avvenuto poco dopo le 8 del mattino le vittime i due feriti avevano entrambi 20 anni e sono stati feriti trasportati all'ospedale il braccio egiziano del cosiddetto stato islamico ha annunciato di avere decapitato due presunte spie dell'esercito diffondendo sul web le foto dell'ennesimo crimine la serie di immagini pubblicate su twitter questa notte mostrano il taglio della testa dei due uomini in abiti civili il primo è presentato dai jihadisti come una spia dell'intelligence militare mentre il secondo è definito una spia per conto dell'esercito e adesso vi raccontiamo la storia di un giovane statunitense un benzinaio musulmano che combatte la sua guerra contro l'isis a modo suo vediamo combattere l'isis con un cartone animato non una follia ma una chiara strategia educativa da perseguire a forza di click su internet l'idea è venuta a Mohammed Ahmed benzinaio di Minneapolis negli Stati Uniti dove è giunto come immigrato una ventina di anni fa colpito dal fatto che circa 30 giovani di origine somala hanno lasciato Minneapolis per unirsi come foreign fighters ai terroristi di Al-Shabaab nel corno d'Africa Mohammed ha capito quanto sia urgente raccontare ai ragazzi un'altra storia ovvero stigmatizzare gli orrori che il fanatismo sta causando nel mondo estranei alla verità dell'Islam e mostrare come sia possibile costruire un mondo di pace ciò che lo stesso Corano chiede con l'aiuto degli imam della sua città e attraverso una raccolta fondi ancora in corso sono riusciti a creare un sito e a realizzare i primi cartoni animati per contrastare l'idea che il Jihad la guerra santa sia il dovere di ogni musulmano e per aiutare i giovani a credere nella possibilità dell'integrazione e a costruire nel paese in cui vivono un futuro migliore per tutti adesso vi lascio a terza pagina che oggi ci porta in Puglia e ci racconta il recupero di due beni del patrimonio ecclesiale e culturale della regione una abbazia del 200 ed una biblioteca che riapre dopo 40 anni al centro di Bari Vecchia con questo è tutto l'appuntamento con l'informazione torna dopo il rosario da Lourdes a voi tutti una buona giornata